Le matriosche sono delle tipiche bambole russe che si possono incastrare l'una nell'altra, quindi se prendo la bambolina più piccola riesco a inserirla all'interno di quella più grande e così via, fino a che la bambola più grande le contiene tutte. Proviamo a osservare la forma di queste matriosche. Queste matriosche devono per forza avere la stessa identica forma, altrimenti non possiamo inserire l'una nell'altra. La cosa che hanno diversa però è la grandezza. Come posso ottenere da questa matriosca piccola la forma di questa matriosca grande? Beh, se dovessi fare una fotografia a questa matriosca e avesse uno smartphone, cosa faccio? Faccio lo zoom con le dita fino a ottenere la forma e la grandezza della matriosca più grande. Quindi queste figure sono tutte simili tra di loro, nonostante abbiano grandezze diverse. Proviamo ad avvicinarci sempre di più alla matematica, per così dire. Guardate qui che cosa abbiamo. Abbiamo delle figure di notti biscotti e alcune di queste figure sono simili alla figura di partenza. Considero infatti come figura di partenza questa. Proviamo a osservare. Sicuramente questa figura non è simile a questa. Provate a vedere. Nonostante comunque è molto più grande, ma è molto più schiacciata. Quindi sicuramente questa non è simile a questa. Togliamola. Un'altra figura che non è simile è questa. Questa figura, come vedete, è più schiacciata verticalmente rispetto a questa. Proviamo a osservare ora queste tre figure che sono rimaste. Sono tutte simili. Come ho fatto a costruire delle figure simili a questa? Beh, innanzitutto con il computer ho ritagliato queste figure in alcuni rettangoli. E come vedete, per creare questo rettangolo, ho diviso per due sia la base di questo rettangolo sia l'altezza. Invece, per ottenere questa figura, ho moltiplicato sia la base che l'altezza della mia figura di base per 1,5. Perché queste non sono saltate fuori figure simili alla prima? Perché, se ci badate, questa figura ha la stessa identica base di questa di partenza, ma l'altezza è diversa. Questa, invece, ha la stessa identica altezza, ma la base l'ho ingrandita molto, quindi ho moltiplicato la base per un certo numero. Quindi, iniziamo a capire, pian piano, che per ottenere un rettangolo simile a un rettangolo dato, basta moltiplicare o dividere entrambe le dimensioni di quest'ultimo per uno stesso numero. Quindi, per esempio, parto da questo rettangolo, per ottenere dei rettangoli simili, e poi vedremo la definizione formale, possiamo dividere o moltiplicare per uno stesso numero. Quindi, se questo ha la base di 4 cm e l'altezza di 2 cm, posso, diciamo, trasformarlo in un rettangolo simile, dividendo entrambe le misure per 2. Infatti, 4 diviso 2, 2, e 2 diviso 2, 1. R2 è simile a R. Allo stesso modo, posso moltiplicare per uno stesso numero la base e l'altezza, e ottengo R1, che ha la base, che è 1,5 volte più grande di questa altezza. Quindi, in definitiva, quando è che i due rettangoli si dicono simili? Due rettangoli si dicono simili se il rapporto tra le basi è uguale al rapporto tra le altezze. Che cosa significa rapporto? Significa quoziente. Quindi, in poche parole, se dovessi avere questi due rettangoli, io vi dico che questi due rettangoli sono simili. Quindi, questi due rettangoli devono avere lo stesso quoziente tra le basi e tra le altezze. In definitiva, io ho chiamato B' questa base e B questa, H' questa altezza e H' questa. Quindi, se il rapporto tra le basi, quindi B diviso B' è uguale a H diviso H', allora questi due rettangoli sono simili. Che cosa ricorda questa scrittura? Una proporzione, quindi, se B sta a B' come H sta a H', allora i due rettangoli sono simili. Oppure, altro modo per scriverlo, se B fratto B' è uguale ad H fratto H', allora i due rettangoli sono simili. Tale rapporto viene detto rapporto di similitudine o rapporto di scala. Quindi, il rapporto tra le basi e il rapporto tra le altezze si chiama rapporto di scala e generalmente si indica con K. Ciò significa che K è lo stesso identico valore sia per il rapporto tra le basi che il rapporto tra le altezze. Ecco qui una lezione sulla similitudine tra rettangoli. Seguite sempre il mio canale che inserirò altre lezioni come questa. Auguro a tutti buona giornata!